ciao adesso ti faccio vedere come entrare dentro classroom e inserire il tuo codice allora innanzitutto devi essere sicuro o sicura di esserti logato con l'id dell'istituto masotto in questo caso è alessandro.gelain.it che è il mio indirizzo istituzionale e non con un altro tipo questo ok poi fai clic qua scendi giù fino ad arrivare a classroom da me è uscito temporaneamente però basta rientrare una volta dentro classroom adesso qua tu vedrai bianco mentre io ho tutte le classi ho le collaborazioni con bellanda e via discorrendo non devi fare altro che premere più e ti iscrivi a un corso ti iscrivi a un corso metti il codice che ti ho mandato qua o che la prestata di classe ti è mandato qua e tu automaticamente sei iscritto o iscritta a una classe fine